la grande barriera corallina le banane scomparse pattinaggio sul ghiaccio la pagnotta parlante il jukebox la mummia egiziana del professor paletta il film di super patato zigo zago al circo natale in ospedale zigo zago ingessato e ora? il giorno zigo zago ingessato ed ora che si apra il sipario zigo zago ingessato e ora? il giorno zigo zago ingessato